ciao buongiorno e ben ritrovato finalmente mi ritrovo mi riprendo dopo la faticaccia di eicma è stata una settimana bella intensa bella dura e come ogni volta dopo la settimana della dell'esposizione internazionale del ciclo motociclo e accessori per gli amici eicma mi ritrovo mi rinchiudo nella mia stanzetta e tiro un po le somme nel caos dei miei appunti e del materiale cerco di dare un senso a tutto quello che ho visto e agli incontri che ho fatto quindi come vedi sono un pochino sconvolto battute a parte faccio questo vlog abbraccio vado un po abbraccio così in maniera un po svelta un po veloce soltanto perché ci tengo a tenere un po il il contatto tenerti aggiornato su tutto quello che è successo e soprattutto perché ho una marea di robe da fare di a cui dare veramente un senso un significato quindi andiamo così abbraccio e vorrei parlarti fare un riassuntone di quello che secondo me è il meglio di eicma il meglio di quello che ho visto prima però devo fare due veloci premesse la prima è un ringraziamento un ringraziamento a luca girardi che ha vinto quel simpatico spero simpatico contest che abbiamo fatto la settimana scorsa la settimana prima di eicma e che è venuto con me quindi a vedere le premiere internazionali soprattutto a provare il cross helmet sto montando la clip che riguarda proprio il cross helmet e la prova mia e di luca la pubblicherò a breve grazie luca sei stato simpaticissimo spero di incontrarti ancora non avevo dubbi che fosse simpatico perché uno che segue sempre il canale di motoretto e come tutti quelli che seguono il canale di motoretto è per forza simpatico bello e intelligente andando avanti una la seconda premessa è invece che guardate un po qui in moto di dicembre un buon motivo per comprare in moto di dicembre perché a pagina 192 si parla di motoretto gli amici della redazione di moto in particolare diego d'andrea che ringrazio mi ha intervistato su quello che è il mio lavoro su quello che faccio e quindi sono veramente orgoglioso di poter dire che questo mese mi trovate su su in moto per parlare di me stesso di quello di quello che faccio bene bando le ciance passiamo invece a quelle che sono state le novità di eicma quello che abbiamo visto in questo salone 2018 allora penso che ormai tu abbia già visto un pochino in giro tutto perché è trascorsa settimana e ci siamo stati ovviamente bombardati da tutte le novità in molti ho visto si sono lamentati o perlomeno hanno segnalato che le case quest'anno sono state un pochino prudenti non hanno portato grandissime grandissime novità sì questo è in parte vero perché comunque ci si aspettava magari qualcosina in più le novità che c'erano erano in gran parte annunciate però c'è stata anche qualche sorpresa e sicuramente un po di prudenza in più c'è stata perché ovviamente tutte le case devono fare i conti con delle normative anti inquinamento sempre più stringenti finché non verranno definite del tutto comunque ci sarà il passaggio all'euro 5 è probabile che ci sia un attimino di prudenza in più detto questo le novità c'erano c'erano delle moto molto belle c'erano anche delle ragazze molto belle come sempre io ho fatto un piccolo riassunto sul mio sito ho scritto due post il primo è per spiegare qual è secondo me la regina di EICMA e secondo invece è appunto una selezione il meglio di EICMA sempre ovviamente secondo me io non ho la verità assoluta però osservo questo settore da un po' con compassione lo osservo ogni giorno e ci tengo a sottolineare che questa appena trascorsa era la mia dodicesima EICMA come stampa dodicesima EICMA consecutiva quindi voglio dire è un po' che consumo le suole delle scarpe sui corridoi di EICMA e questo spero che come dire dia maggior valore a quelli che sono i miei pensieri i miei giudizi riguardo le novità va bene basta finiamo con questa autoreferenzialità e passiamo a quelle che sono quello che è secondo me il meglio di EICMA allora ho eletto come mia regina di EICMA innanzitutto la Livewire di Harley Davidson non perché sia la più bella in assoluto perché non lo è onestamente non lo è non è la più bella però la trovo molto figa e la cosa ancora più figa è che Harley Davidson è riuscita e riuscirà con questa moto a rendere cool le moto elettriche moto che solitamente non vengono percepite come cool ma vengono percepite un po' come un giochino da nerd da geek da insomma un po' da sfigatelli diciamo la verità invece la Livewire è proprio una moto figa e vedendola dal vivo sono stato colpito da come i designer americani siano riusciti un po' a camuffare dei volumi effettivamente ingombranti quella batteria grossa piastata lì in mezzo non è facile a digerire anche perché al suo posto ci aspetteremo un bel V-Twin che ovviamente esteticamente ha tutto un altro impatto non c'è che dire però credo che abbiano fatto un ottimo lavoro perché è inconfondibilmente un Harley Davidson pur essendo un Harley completamente diversa da quello che c'è stato finora è sostanzialmente una naked orientata più un utilizzo urban diciamo urbano e quindi non è una custom non è sfacciatamente americana insomma hanno esplorato una nuova direzione e hanno tenuto fede a quello che è l'obiettivo che si sono posti nell'ultimo anno che è more roads to Harley questo è un po' l'obiettivo che loro stessi hanno dichiarato lo scorso luglio presentando un po' di concept non so se ti ricordi ma lo scorso luglio hanno presentato appunto il concept della live wire definitiva e più altri bozzetti e concept che vedremo alla fine del 2019 quindi per il 2020 2021 e more roads to Harley è stato il claim utilizzato in quell'occasione ma è un claim che ci dice molto perché significa che Harley sta puntando verso un'altra clientela sta cercando di ampliare la propria clientela consapevole evidentemente che non basta non basta più l'arleista il modello di arleista così come lo conosciamo la live wire è per me la regina di questo salone perché è una moto di rottura è innovativa passerà alla storia che ci piace o meno come la prima moto elettrica ad alte prestazioni di un grande marchio ok quindi comunque segna una pietra miliare sia che abbia successo sia che non ce l'abbia e Harley è stata molto coraggiosa a prendere questa strada perché io personalmente mi sarei aspettato una novità in campo elettrico da un marchio tecnologico come come sono le case giapponesi e non da un marchio sfacciatamente tradizionalista come è sempre stato Harley e invece evidentemente qualcosa è cambiato evidentemente solo un marchio che ha radici così ben salde nella propria storia nell'heritage motociclistico può permettersi uno slancio nel futuro tutti gli altri per adesso aspettano e la live wire vince secondo me perché è innovativa è coraggiosa è una moto di rottura avrà successo non avrà successo lo staremo a vedere perché arriverà sul mercato alla fine della prossima estate ad agosto come di solito insomma Harley Davidson svelerà la gamma 2020 e quindi ci sarà la live wire dovremo aspettare ancora un annetto scarso insomma sicuramente è più probabile che il suo sia un insuccesso che un successo parlando proprio in maniera onesta franca però io in ogni caso spero che riesca a cambiare qualcosa a cambiare la percezione su sulla moto elettrica e nel caso abbia successo nel caso avesse successo la live wire sicuramente potrebbe creare una nuova nicchia di mercato tant'è che la stessa Harley dichiara che si tratta del primo modello di una gamma completamente elettrica staremo a vedere comunque per me è la regina del salone per questi motivi e non soltanto per un motivo estetico ci tenevo a precisarlo perché ho pubblicato questo breve articolo in cui spiego le mie ragioni ma evidentemente non tutti lo hanno letto fino in fondo o hanno compreso il mio significato e pensano che io abbia eletto la live wire come regina soltanto per motivi estetici non è così passiamo invece a quelli che sono gli altri modelli che mi hanno colpito di eicma allora alcune moto sicuramente erano annunciate l'arrivo di alcune moto era ampiamente annunciato dai prototipi dell'anno scorso quindi ci aspettavamo di vedere le versioni definitivi di ktm 790 adventure di yamaha tnr 700 e anche di bmws 1000 rr anche se non avevamo visto il prototipo sapevamo che sarebbe comunque arrivata girava la notizia da un po erano modelli già piuttosto attesi e sapevamo più o meno come sarebbero stati quindi diciamo non sono stati delle grosse sorprese per quanto riguarda il 790 devo dire che un pochino un pochino mi ha deluso dal punto di vista estetico ma rimando sicuramente al giudizio a uno sguardo più attento in strada infatti ho trovato la sua posizione nello stand forse anche perché era molto affollato l'ho trovato in una posizione un po sacrificata ho fatto fatica a osservarlo per bene ed è un'estetica che sicuramente va osservata come sempre il design di kiska necessita del tempo per essere metabolizzato invece la yamaha tnr 700 mi è piaciuta mi è piaciuta molto dal punto di vista estetico molto bello il cupolino è un po è un po ktm se vogliamo sono alcuni stilemi ho notato invece alcuni dettagli alcuni in particolare un pochino sotto tono che sono comprensibili visto che si parla di un prezzo d'attacco molto competitivo e in ottica di contenimento costi ci sta anche qualche risparmio però a vederla così insomma alcune cose mi hanno lasciato un po scettico anche in questo caso la vedremo meglio su strada a parte queste le le altre novità importanti che secondo me sono degne di nota sono sicuramente vabbè lo hanno detto tutti l'MV Augusta super veloce 800 una moto davvero molto molto bella che in realtà non ha una particolare innovazione perché si tratta di una f3 vestita a festa diciamo però il vestito è molto bello è molto riuscito molto armonico anche se non assolutamente perfetto perché secondo me ancora il serbatoio parla una certa lingua mentre cupolino carena e codino ne parlano un'altra ma a parte questo è una moto decisamente bella e si tratta di trovare veramente il pelo sull'uovo complimenti a MV Augusta per aver presentato a sorpresa questa novità tra le più gradite del salone sempre a sorpresa sono arrivati altri due prototipi che segnalo nel mio articolo sul blog che sono di Honda CB125M e CB125X entrambi derivati dalla CB125R già presente sul mercato una 125 apprezzata che ha la stessa linea richiama la stessa linea della CB1000R quindi questo neo sport caffè come lo chiama Honda e della neonata CB650R che abbiamo visto appunto a ECMA rispetto a quella che comunque è molto bella una naked molto interessante ho preferito mettere questi due questi due piccoli concept 125 perché hanno un maggiore slancio verso il futuro e perché per una volta tanto sono dei concept con un motore piccolo il 125 su una categoria piccola è dedicata ai più giovani e non su un motorone sono molto interessanti la 125M è un motard diciamo anche se è un po' un incrocio tra una naked e un motard la trovo molto equilibrata dal punto di vista del design mi piace e mi piace ancora di più la 125X che invece una leggera dual sport che richiama in alcuni tratti in alcuni volumi la Africa Twin ma è molto più decisa molto più marcata molto più netta anzi in entrambi i casi diciamo c'è una cura un po' passatemi il termine svedese e forse forse come sostenevo tempo fa l'arrivo nelle passate edizioni di ECMA ma l'arrivo sul mercato delle Husqvarna, Svartpilen e Wittpilen ha lasciato il segno e come dicevo secondo me sono delle moto che i cui effetti vedremo anche nel prossimo futuro anche sulle moto di altri marchi e forse in questi due prototipi un pizzico di quel messaggio lanciato dall'Husqvarna si può notare Husqvarna che ha presentato un'altra delle moto che suggerisco tra le migliori di ECMA che è la Wittpilen Aero molto molto bella molto molto figa è una sportiva sulla base della Wittpilen mi piace mi piace molto anche la scelta del colore fortemente squarna quindi bianco blu è arrivata anche la versione definitiva della Svartpilen 701 niente di sensazionale dal punto di vista del design nel senso che quello che avevamo già visto l'anno scorso è di fatto la Wittpilen con il menù più alto e un codino leggermente diverso e tanto basta comunque per farmela desiderare voglio la Svartpilen 701 passando alle altre novità c'è la Royal Enfield KX Concept che devo ammettere inizialmente ho un po' sottovalutato passando velocemente dallo stand Royal Enfield e invece merita attenzione è evidente che in India sta succedendo qualcosa c'è un po' di eccitazione forse hanno preso degli eccitanti ma fatto sta che dopo aver rivoluzionato ogni loro credo l'anno scorso presentando un bicilindrico in linea non più solo monocilindrico con la Interceptor e la Continental quest'anno arrivano con un prototipo che non è apparentemente destinato alla produzione ma lascia comunque abbastanza sbalorditi perché ha un bicilindrico AV non si tratta in realtà del primo bicilindrico AV di Royal Enfield perché un'ottantina di anni fa fu fatta in effetti una moto con questa disposizione dei cilindri era un 1140 e questo concept vuole rendere omaggio all'antenata a questa progenitrice è un tributo la moto molto interessante anche perché rispetto alla consuetudine di Royal Enfield che è fatta di stilemi molto 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 classici che richiamano pedissequamente quello che era lo stile degli anni 60 anche 50 nel caso della Bullet qui c'è un azzardo una prova in qualcosa di nuovo è un bobberino che per alcuni versi ricorda un po' il Triumph Bobber però interessante con una forcella Girder molto particolare che difficilmente vedremo su un modello di produzione di modello di serie però ci sta è un concept quindi brava Royal Enfield altro modello su cui voglio puntare l'attenzione è il Fantic Caballero E-Cab abbiamo visto ad Eicma la Fantic con tutto uno schieramento di caballero nelle tre diverse cilindrate nelle diverse conformazioni una moto che sta piacendo molto una moto che è il successo è il rilancio rappresenta il rilancio di Fantic quindi bene ma Fantic fa capire che punta anche sull'elettrico con questo con questo prototipo che esteticamente è indiscutibilmente un caballero riprende gli stessi stili stessi elementi dei modelli che già abbiamo visto però lo equipaggia con un motore elettrico motore da 11 kilowatt quindi destinato ai più giovani e con una batteria da 7,5 kilowattora quindi diciamo molto simile molto vicino a quelle che sono le caratteristiche della Zero Motorcycles FX quindi Fantic dichiara un'autonomia di 150 chilometri io credo che sia abbastanza realistica magari un po' ottimista ma realistica anche perché il peso pare essere contenuto in solo 147 chili o almeno questo è quello che dichiara la casa il Fantic E-Cab potrebbe essere l'inizio di una di una nuova gamma elettrica per Fantic ma lo sapremo soltanto fra un paio d'anni quando comunque i costi della tecnologia elettrica delle batterie dovrebbero un pochino calare beneficiando dello sviluppo e della diffusione delle auto elettriche quindi quando si sbloccherà un po' il mercato dell'auto vedremo che a cascata si sbloccherà anche il mercato delle moto altro prodotto altro concept elettrico è quello di Kinko che ha decisamente sorpreso tutti in primo luogo perché ha portato una supersportiva e quindi non ci si aspetta una supersportiva normalmente da Kinko e in secondo luogo perché questa supersportiva è completamente elettrica si chiama Supernex ed è una moto da 250 all'ora quindi assolutamente veloce Kinko dichiara dei dati strepitosi di accelerazione addirittura uno 0-100 inferiore ai 3 secondi ma sembra che questo prototipo sia veramente un prodigio Kinko si sta interessando sempre più all'elettrico l'ha già dimostrato lo scorso anno presentando il progetto Ionex che sta andando avanti che prevede appunto delle batterie estraibili e dei depositi nelle città dove dei caricatori dove poterle lasciare e poter riprendere una tecnologia sicuramente perfetta per il commuting urbano per gli scooter sarà da vedere come questo tipo di tecnologia verrà applicata a una moto sportiva è interessante la Supernex anche perché ci fa intuire come l'arrivo dell'elettrico potrebbe in qualche modo cambiare gli equilibri in campo e mostrarci anche marchi che eravamo certi di conoscere in una certa maniera dimostrarci sotto altri aspetti e anche un marchio come Kinko potrebbe diventare un marchio di moto supersportive e quindi questo è secondo me un aspetto interessante sempre ad altissime prestazioni e sempre elettrica è un altro prototipo che c'era ecma ed è l'arc vector ora sono mai sentito parlare di arc non ti devi preoccupare perché neanch'io ne avevo mai sentito parlare ma si tratta di una startup fondata da un ingegnere inglese mark truman che finora ha lavorato in jaguar e ha radunato una squadra di cervelloni della moto tutte tutti ingegneri che hanno lavorato ad altissimi livelli con grandi aziende per costruire questo bolide elettrico che è appunto la vector si tratta di una moto che almeno sulla carta sbaraglia tutta la concorrenza sbaraglia tutta la concorrenza con un motore da 103 kilowatt e una batteria da 16,8 kilowatt ora che dovrebbe garantire un'autonomia che varia a seconda di quanto spalanchiamo la manetta dai 200 chilometri almeno fino a oltre 400 chilometri e altra informazione sbalorditiva è che grazie a un caricatore rapido si può fare una fast charge in soli 30 minuti e quindi questo è sicuramente importante rimango un pochino scettico perché ovviamente stiamo parlando di un prototipo stiamo parlando di una moto totalmente nuova che viene fuori così all'improvviso come dicono gli inglesi out of blue e quindi rimango un attimino sul chi va là prendo questi dati con le pinze però sicuramente li prendo per buoni e diciamo che è molto molto interessante interessantissima anche la coppia di questo bolide che è di 292 newton metri qualcosa veramente di folle è un missile da 240 chilometri orari e costerà parecchio costerà parecchio a uno stile ovviamente inconfondibile molto molto curato carbonio bracci oscillanti chi più ne ha più ne metta però appunto si parla di 20.000 sterline quindi al cambio 115 mila dollari per per capirci insomma staremo a vedere quale sarà il futuro di questo vector ecco questo questi diciamo sono i modelli che più mi hanno colpito di e ma concludo con una menzione d'onore per alcune moto che mi sono piaciute particolarmente anche se già le conoscevamo mi è piaciuta molto la triumph scrambler mille due che aspettavo di vedere dal vivo dopo aver visto in foto nei giorni precedenti ad eicma e mi è piaciuta molto anche la sempre di casa triumph la bonneville t120 nella nell'edizione diamond che è un'edizione commemorativa molto molto bella riuscita equilibrata e mi è piaciuta anche che finalmente ho potuto vedere dal vivo la indian ftr 1200 una moto molto molto interessante forse dal punto di vista estetico c'è ancora qualche piccolo chiamiamolo disordine nella zona motore con un po di cavetti in vista eccetera ma è una moto molto bella originale diversa da quello che c'è sul mercato quindi secondo me questo è un bel colpo di indian per arrivare sul mercato europeo a parte questo insomma ho già credo di aver già detto tutto grazie per l'attenzione grazie se hai guardato fino a qui il video e ci vediamo nei prossimi giorni con tante tante novità a una su tutte ti anticipo già ora che perché mi è arrivato proprio in questi in questi momenti l'ufficializzazione che sono stato scelto da garmin per partecipare all'awards beat yesterday che cos'è un award un premio un riconoscimento per persone che si sono distinte nel loro ambito e sono in nomination con altri quattro blogger quindi troverai sul sul mio sito sul sui miei canali social il link per per votare e il 14 dicembre verrà nominato e verrà assegnato questo riconoscimento insomma è la cosa mi emoziona non poco quindi grazie a garmin che mi ha selezionato mi ha messo il list e grazie a chi vorrà votare ci vediamo la prossima mi raccomando gas ma sempre responsabilmente ciao 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 Grazie a tutti.